Convegni, testimonianze, una mostra itinerante ed anche un annullo filatelico sono solo alcune delle iniziative organizzate dall'Istituto di Cultura Politica Giuseppe Spataro per ricordare Remo Gaspari ad un secolo esatto dalla nascita e a dieci anni dalla sua scomparsa. Questa mattina presso il Circola Ternino di Pescara sono stati Licio Di Biase, presidente dell'Istituto Spataro e Renzo Gallerati, ex sindaco di Montesilvano, ad illustrare le varie iniziative che si terranno dal primo al 19 luglio e che vedranno la presenza in Abruzzo di numerosi personaggi politici di primo piano del panorama nazionale. Remo Gaspari fu protagonista in questo sviluppo attraverso un'attenta politica di infrastrutture, pensiamo all'autostrada Pescara Roma, pensiamo all'aeroporto, al porto di Ortona, pensiamo a tantissime infrastrutture e poi ai bacini industriali, senza quei bacini l'Abruzzo sarebbe rimasta una regione del profondo sud. Invece, quando è finita la prima repubblica, lo diceva sempre Remo Gaspari, l'Abruzzo era in competizione col PIL, con le regioni del nord, quindi vuol dire che è stata una regione che ha avuto un grandissimo sviluppo, una regione che ha avuto la sua ricchezza. Noi guardiamo dietro per andare avanti, non è un'operazione di nostalgia, non è neanche un'operazione di archeologia politica. Capire perché c'è stato uno sviluppo, capire perché la democrazia era più sentita, perché la gente partecipava di più, capire che cosa è accaduto e trovare lo spunto e possibilmente anche le persone per ripartire in maniera decisa per andare avanti. Quello che ha fatto una persona come Remo Gaspari ce lo deve dare questa fiducia, perché Remo Gaspari non era il coppi, l'uomo solo al comando, come adesso troppo facilmente si tenta di fare con i partiti personali, eccetera. Era una persona che aveva le capacità di leader, ma soprattutto coinvolgeva la società civile a tutti i livelli, i comuni, i sindaci, i consigli comunali, le comunità montane, le attività culturali e industriali del paese, la regione, fino al governo centrale. Nessuno può fare nulla da solo, nessuno è insostituibile, ciascuno deve apportare, deve dare il contributo che può, ma lo deve dare, tutti noi lo dobbiamo dare.